Giorgia Meloni, nell'incontro con Matteo Salvini che cosa vi siete detti? Abbiamo fatto ovviamente una valutazione dei risultati delle elezioni europee, ci siamo confrontati su quali debbano essere le questioni attorno alle quali ricostruire un centrodestra ormai polverizzato, perché insomma io non mi rassegno al finto bipolarismo tra due forme diverse di avanspettacolo, quella di Renzi e quella di Grillo. Pensiamo che però il ragionamento sul centrodestra debba ripartire dai contenuti, non è solo un tema di leadership, non è solo un tema di metodo, è un tema di merito. Oggi bene o male ci sono alcuni partiti che stanno all'opposizione e che coerentemente sono rimasti a difendere determinate idee, altri che stanno direttamente al governo col centrosinistra, alcuni che fiancheggiano il governo di centrosinistra. Quindi a Monte pensiamo che si debba, e su questo condividiamo la posizione, che si debba tornare alla coerenza delle proprie idee, alle risposte da dare agli italiani e a un tema di contenuto che viene prima del contenitore, perché abbiamo visto troppa tattica in questi anni e invece facciamo politica fondamentalmente per difendere delle idee e costruirle. Quali sono i temi che vi avvicinano di più? Sicuramente in questa campagna elettorale per le elezioni europee ci siamo trovati sul terreno della critica a un'Europa, delle burocrazie, delle tecnocrazie, degli interessi della grande finanza, che ha di fatto cancellato l'idea che avevamo di un'Europa invece della solidarietà, della civiltà, della identità e quindi il ritorno al principio della sovranità dei popoli, dei diritti dei popoli e quindi anche la lotta contro una politica monetaria sbagliata, la vicenda della critica all'euro, dell'uscita dall'euro. Ci siamo trovati d'accordo sul tema dell'immigrazione e particolarmente su una gestione sbagliata da parte dei governi centrosinistra in Italia e dell'Unione Europea che ci ha abbandonato da soli rispetto al tema dell'immigrazione clandestina e queste sono forse le principali questioni. Poi certo ci sono anche temi che ci tengono separati, noi siamo prima di tutto il partito della nazione, per noi la dimensione della patria è la prima delle scelte, non così per la Lega Nord, però pensiamo che si debba insomma sui temi sui quali si è d'accordo lavorare per ricostruire insieme. A livello parlamentare su quali riforme si può fare battaglia comune? Beh ci sono tante sfide che si possono portare avanti insieme, qualcosa abbiamo anche già fatto in questi mesi, io ricordo che è sulla proposta di legge di Fratelli Italia Alleanza Nazionale contro le pensioni d'oro, per revocare le pensioni d'oro, aumentare le pensioni minime, noi abbiamo trovato soprattutto la solidarietà, lo voglio dire, della Lega Nord, ci aspettavamo anche solidarietà per esempio al Movimento 5 Stelle ma non l'abbiamo trovata alla stessa maniera, ci sono per il futuro ovviamente anche le questioni delle riforme da vedere, lo dico anche in rapporto al resto del centrodestra, io per esempio ritengo che non si possa parlare di riforme in Italia se non si parla di introdurre il presidenzialismo, perché è una battaglia storica del centrodestra, penso che non si possa parlare di riforme se si fa una legge elettorale che ci restituisce i parlamentari nominati con le liste bloccate, i segretari di partito che decidono tutto, dopo che tutti sono andati in televisione a dire che i parlamentari nominati facevano schifo e le liste bloccate facevano schifo, penso che non si possa dire che è una riforma mantenere il Senato ma abolire l'eleggibilità dei senatori, così i partiti si nominano anche i senatori e bypassano completamente le elezioni dopo essersi nominati i deputati, penso che su questo terreno si debba incalzare soprattutto il resto della coalizione di centrodestra, perché non è che si può parlare di facciamo le cose insieme con i partiti di centrodestra ma poi le riforme le facciamo con Renzi, bisogna dimostrare e questo lo dico soprattutto a Nuovo Centrodestra ma anche a Forza Italia che si è liberi da questa sudditanza che fino ad ora si è avuta nei confronti di Matteo Renzi. In questi giorni la Lega continua la raccolta di firme sui referendum proposti, quali fratelli d'Italia può mettere nel nero su bianco anche la propria firma? Ma guardi sul tema dell'immigrazione clandestina ovviamente tutti sanno che abbiamo fatto la battaglia in aula e che quindi siamo assolutamente d'accordo sul tema della prostituzione, c'è stata un'analoga domanda che noi abbiamo fatto ai nostri simpatizzanti durante le nostre primarie che ha detto che la stragrande maggioranza di chi oggi sostiene Fratelli Italia e Alleanza Nazionale è favorevole a combattere la prostituzione su strada anche normando il tema della prostituzione, sugli altri ci stiamo riunendo anche nei prossimi giorni, storicamente siamo contrari ai reati d'opinione quindi anche il tema di abolizione della legge Mancina è un tema sul quale ovviamente non abbiamo difficoltà ma insomma per avere un quadro complessivo noi stiamo riunendo anche gli organi di partito per capire insomma quali siano le sensibilità perché su alcuni quesiti sicuramente penso che nei prossimi giorni neanche io insomma andrò a firmare però quelli sui quali c'è unanimità all'interno del partito sugli altri eventualmente avremo libertà di sottoscriverli oppure no.